Se devo parlare di un formaggio, oltre tutti quelli di Alpeggio, vorrei pronunciarmi su questo, che è un formaggio innovativo, un formaggio giovane che ho inventato per i giovani ed è stato messo a punto nel 2011, periodo in cui in Italia ricorreva il centocinquantesimo anno dell'unificazione, ragion per cui questo formaggio l'ho voluto produrre con della frutta della Sicilia, che rappresenta quindi l'estremo sud dell'Italia, con uva, candita, fichi, quindi rappresenta il caldo e il sole dell'Italia. Il formaggio che ho adoperato è un formaggio di transumanza, cioè dove i nostri mandri, i nostri greggi, dalla Liguria, cioè dalla zona del mare, si spostano verso la nostra montagna. Quindi c'è un percorso che va a coprire due regioni con pascoli molto diversi. Il tutto è stato innaffiato con della grappa, un prodotto tipico piemontese che deriva dalla distillazione di vinacce ed una grappa di moscato. Tutto questo ha unificato delle particolarità agricole, agronomiche e di territorio tali che per chi lo consuma è un'unificazione di sapori di tutta Italia. Apposta sopra questi formaggi è di quattro gradazioni di acidità, tali che se un consumatore vuole giocare, abbinare un vino dolce, arrivato a questo punto nella degustazione, ecco che il gioco sta nel risolvere quale vino è più idoneo con quale frutta. Abbiamo l'abicocco che è un'acidità molto più elevata, mirtilli, uva passa e poi abbiamo anche dei fichi. Quindi sono quattro qualità di frutta con acidità che permettono a questo livello della degustazione di proseguire eventualmente sul ancora un assaggio di formaggi o passare direttamente al dessert perché apre la strada a due alternative di proseguo di pranzo. Io penso che il sole sulla Sicilia, sulla sua frutta e sui suoi vini entri proprio nell'anima. Quindi questa frutta che mi dà in bocca il sapore del sole corrisponda a un vino dolce, caldo, marsalato. Quindi con l'abbinamento del formaggio e dell'albicocca certamente seguirei un vino marsalato o un passito di sicilia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.